eccoci qua in questa serata silenziosa e galleggiante diciamo così oggi sono uscita e c'era una luce pazzesca mai vista una luce del genere più calda più intensa più più dio una luce straordinaria e mi ha proprio colpito la vibrazione che portava con sé perché comunque era potente quindi qualcosa sta accadendo non è stato un bel periodo per tutti neanche per me per la mia famiglia per tutto quello che questo delirio di pandemia però insomma abbiamo come dire cercato di direggere a questo ritmo incalzante di problematiche che sembrano colpire ognuno di noi nel suo piccolo tallone d'achille no quindi è difficile riuscire a reggere perché è un continuo 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 di emozioni un continuo di messa alla prova un continuo di stimoli che arrivano e sono veramente distruttivi no su tutti i fronti arrivano queste questi stimoli devastanti no sempre comunque finalizzati a quello che è la paura quello che è il terrore la morte il sacrificio la perdita tutto quello che può venirti tolto no questa direzione e quindi questa nostra inquietudine nasce soprattutto dal fatto che siamo siamo messi alla prova proprio da questa richiesta continua nodi a questa perdita d'identità che sta avvenendo in realtà c'è qualcosa che vibra al di fuori di noi e al di fuori di tutta questa babilonia la grande si è detto c'è qualcosa che che vibra al di sopra di quello che noi diciamo crediamo di essere no crediamo di sentire c'è questa questa vibrazione è altalenante peraltro però adesso sta prendendo forma sta diventando qualche cosa come dire di di concreto no qualche cosa di tangibile e oggi devo dire che andando in macchina verso la città ho visto proprio sul fiume questa luce che non aveva niente di terrestre non aveva niente di già visto ecco uno può dire che bella giornata luminosa magari no però no era qualcos'altro e io sono convinta che questo qualcos'altro sia collegato assolutamente a quello che è la mia esperienza di questo ultimo mese e mezzo questi due due mesi ultimi molto pesante dal punto di vista diciamo familiare quindi anche di responsabilità anche di energia soprattutto però un aiuto concreto dal punto di vista del contatto per esempio che dopo un bel po di tempo diviene insistente cioè diviene chiamante noi in due mesi li ho visti molte volte però in maniera molto eclatante noi l'ultima l'ho filmata tornando a casa il giorno dell'immacolata e anche lì dietro una curva senti adesso ci vedrai e poi è accaduto quello che sono riuscita a filmare e che ho messo su facebook quindi è tutto un susseguirsi di emozioni altalenanti in cui bisogna riuscire a nuotare cercando di tenere la testa fuori dall'acqua quindi questo è quello che ci ha richiesto sempre con una prospettiva che sia comunque costruttiva perché è vero che possiamo osservare tutto ciò che è tutto ciò che è la nostra purtroppo situazione attuale ma possiamo anche cercare di guardare oltre sentendo che questo è un passaggio necessario ma soprattutto che è un momento in cui la nostra presa di posizione e darà dei risultati molto proficui nel senso che questo tutto questo marasma creato ad hoc per ovviamente interessi in questo caso diciamo farmaceutici tra virgolette per non fare dei grandi discorsi perché mi sto orientando in questo momento su altro diviene come dire un mezzo no tutto questo baronda diviene un mezzo per riuscire a distinguere il bene dal male e l'uomo in questo periodo in questo periodo storico in questo periodo universale riferito diciamo alla nostra esperienza terrestre detto in parole semplici guardandoci dal di fuori noi capiamo che in realtà abbiamo bisogno di una grande paura di una grande prova no per per comprendere l'universo lo sa questo noi quindi qualsiasi mezzo è il giusto fine per riuscire a crescere l'universo non si preoccupa del del fine c'è del mezzo che utilizzano si preoccupa più che altro della finalità quindi tutto quello che noi stiamo osservando ci deve servire per crescere in consapevolezza no quindi fare un lavoro comunque costante anche perché in effetti che cosa ci rimarrebbe da fare no ecco quindi diciamo che questa questo passaggio ci è utile per riuscire a comprendere da che parte dobbiamo imporci di stare perché comunque tutto quello che noi cominciamo a pensare vibra ad una certa frequenza crea realtà quindi di fatto l'uomo in questo momento per un motivo per l'altro è malcontento nei confronti della della gestione diciamo governativa cioè della di chi ci ci gestisce dal punto di vista siamo tecnico riassunto ovviamente in tutte le frange varie che possiamo immaginare no quindi non andiamo ancora a come si può dire sia da approfondire questo aspetto ci sono persone che lo sanno fare meglio di me e che hanno più elementi per poterlo fare no io guardo osservo questi aspetti terrestri questi aspetti puramente umani come dire il risultato no di questo di questa poca consapevolezza però anche un momento chiamiamolo catartico universale in cui proprio per la prima volta l'essere umano si trova come dire al punto di non ritorno no bene o male se la sono sempre gestita no da quando c'è l'uomo questo è un punto di non ritorno perché chiaramente babilonia la grande ha preso possesso su questo piano vuole prendere possesso su questo piano della della libertà dell'individuo della libertà dell'essere umano che è parte integrante della della motivazione per cui siamo venuti qui no quindi non può non può non si può imprigionare l'anima ecco diciamola così per cui probabilmente questo tipo di situazione politica e economica con tutti questi interessi con tutti questi giochini con questa presa di di posizione per avere no la il completo dominio sull'essere umano in tutto e per tutto sfruttando al massimo quello che alla fine è possibile fare no questo è crudele dal punto di vista della crescita universale c'è l'universo non scusate la mia tenuta da la mia tenuta da contadino infreddolito però io sono quella stufa legna e quindi vedete che comunque riprendendo il discorso noi ci stiamo osservando e quindi dobbiamo per forza di cose in questo questa discesa così rapida riuscire a capire che dobbiamo mantenere la nostra libertà che è l'unica cosa che abbiamo veramente in questo cammino terrestre diciamo in questo girone dantesco e capisco che quando dante è stato sulla terra ha scritto l'inferno lo capisco perché in realtà ha capito benissimo dove si trovavano quindi noi che siamo che vediamo un po oltre questa parte materiale dobbiamo essere in grado di riprenderci i nostri diritti di comprendere che se diamo veramente energia a questo aspetto tutti questi omuncoli che credono di gestirci si sgrettoleranno come neve al sole proprio perché non c'è più la condizione che possa supportarli c'è un cambiamento di stato e che sicuramente è determinato da anche da situazioni geofisiche che vengono dall'esterno ovviamente che noi non possiamo gestire no quindi questa carica di fotoni molto veloci che cambia la frequenza e di conseguenza sta cambiando la forma dello stato di questo di questa esperienza terrestre e tutto si sta muovendo e tutto è veramente imprevedibile no quindi l'universo ci sta chiedendo veramente da che parte volete stare dalla parte della libertà o dalla parte della sottomissione ma questa è un'affermazione non solo a livello diciamo così fisico terrestre ma è proprio una una promessa universale riguarda tutti gli universi vogliamo crescere no vogliamo conoscere vogliamo incontrare vogliamo sentirci parte di tutta questa maestosità oppure vogliamo stare lì no a contare le briciole sul pavimento e così confermare quanto quanto bassi siamo rispetto a tutto quello che ci circonda no quindi insomma tutta questa chiacchierata che è venuta fuori in realtà non avevo alcuna intenzione ma questa susseguirsi di contatti con queste sfere con queste luci eccetera mi fa sentire proprio che forse devo un po trasmettere quello che sta succedendo no ecco è così quindi quello che vorrei dire comprende tutto tutto questo marasma tutto questo casino tutto queste costrizioni che da un giorno all'altro cambiano e che ci mettono in una condizione di non capire più nulla no di confusione totale allora non perdiamo di vista la via la via è quella che ci indica che al di là di questo gioco terrestre c'è una verità che sta emergendo e che ha bisogno di tempo ancora un pochino non tanto però come i guerrieri dobbiamo cercare di guardarci intorno adesso come mai è vero quella frase no che disse gesù siate puri come le colombe astuti come i serpenti no quindi adesso dobbiamo essere proprio il guerriero che guarda avanti studia bene la strategia quello che sta succedendo prende una posizione a costo della vita prende una posizione e questo se riusciremo a fare questo il tutto questo ambaradana i vaccini calcolato da tempo eccetera eccetera sarà un grande flop e questo decreterà insieme ad altre cose che arriveranno finalmente un minimo di innalzamento della nostra coscienza che ci porterà ad essere finalmente fautori del nostro del nostro cammino ci porterà un po più di luce no più di consapevolezza delle ragioni per cui siamo qua e più contatto con situazioni che che saranno molto particolari perché non saremo abituati a vederle no e quindi al di là di tutto quello che sembra al di là di quello che dicono i tre giornali al di là di quello che c'è scritto sui giornali fermiamoci nella riflessione di quello che è il significato più profondo di tutto quello che sta accadendo facciamo un bel respiro proprio un bel respiro e cerchiamo di dire ok questo è un panorama che non è del tutto reale è un'esperienza siamo un puntino nell'universo quindi questa questo puntino dell'universo con 7 milioni di miliardi di persone sopra è lì che sta sperimentando un passaggio dimensionale di coscienza ed è un puntino proprio un minuscolo puntino nell'universo non sappiamo neanche dov'è da tanti che ce ne sono quindi ridimensioniamo il nostro modo di percepire di percepirci come può dire concepiamo il nostro piccolo 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 contributo animico in tutto questo universo che è un'esperienza senza fine e proprio in quel puntino che consideriamo di noi stessi quindi la nostra umiltà più estrema consideriamo che in quel puntino minuscolo c'è l'immensità riuscire a capire questo ci porta ad avere chiaro qual è il movimento che ci sta aspettando in questo momento cioè quello che è la la verità che sta venendo in che ci sta venendo incontro è questione di attimi non ci vuole tantissimo no cioè questione proprio di poco tempo si vede si sente si percepisce nella fatica anche che facciamo quotidianamente no ad affrontare tutto ciò che è un continuo senso di impotenza non continuo senso di incapacità di stare in equilibrio per un motivo per l'altro ecco allora fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire che questa è la condizione che ci destabilizza e quindi che cos'è la cosa che può stabilizzarci pensare che noi non siamo questa cosa qua che non è tutto vero quello che stiamo osservando è una persona può dire sì però il sacrificio c'è il dolore c'è i morti ci sono bene o male la gente sta male o per un motivo per l'altro sì è vero però andiamo sopra questo perché tutti staremo male prima o poi tutti moriremo prima o poi quindi andiamo sopra questo andiamo a vedere motivo per cui sta arrivando questo zunamone no quindi ci sono dei motivi che sono esterni a noi che non possiamo gestire ma ci sono anche dei motivi interni a noi perché noi stiamo decretando la nostra direzione è chiaro che se accettiamo tutto quello che ci viene detto e non e ci rendiamo conto che tutto quello che ci viene detto non tutto ma una gran parte è esattamente un piano diabolico per riuscire ad affermare la propria come dire tra virgolette tirannia che è tirannia reale alla fine perché comunque ci vieta con determinate modalità di l'espressione vieta una corretta organizzazione se questa cosa del covit fosse stata organizzata in maniera differente probabilmente non sarebbe così com'è in cina e sono già senza mascherina da un sacco di tempo ci sono tante variabili che sono talmente limpide tra di loro nel loro rapporto che è evidente che questo è un inghippo è evidente chi non lo vede è cieco però comunque ci siamo dentro per cui in ogni caso serve capire per quale motivo siamo in una situazione del genere perché ci siamo attirati questa cosa l'universo si serve di infiniti metodi per riuscire ad arrivare ai suoi scopi quindi di fatto ci siamo dentro quindi che cosa possiamo fare possiamo cominciare a comprendere che la verità vuole parlare in sostanza no quindi noi dobbiamo prendere coscienza del fatto che la verità è lì vogliamo guardare vogliamo far finta di niente vogliamo non occuparci di pensieri che abbiano diciamo un costrutto una profondità lo faremo per forza perché comunque le persone che si sono hanno orientato la loro vita solamente in cose esteriori andare al bar andare fuori con gli amici andare in discoteca andare in qualsiasi situazione comunitaria diciamo costante in questo momento sono sono persi quindi tutte le situazioni ci mettono alla prova ma che cosa ci vogliono dire queste situazioni è ora che decidiate se volete essere liberi se volete esserci se volete essere passivi se volete rinunciare alla vostra vita la vostra libertà qualsiasi cosa vogliate sarà ecco con questo con questo proposito di di serenità e di fermezza che ci deve essere per perché i prossimi periodi siano veramente costruttivi e perché riusciamo andare di pari passo con questa ascesa diciamo così universale a questa scesa di cambio di stato perché è evidente che siamo in mezzo auguriamoci la questa cosa ecco auguriamoci di essere forti di essere determinati e di non cedere davanti alla presa di posizione di queste persone che non hanno più potere perché la loro frequenza non è come quella che serve diciamo così ecco quindi vi mando un grosso bacio un abbraccio state sereni a me dà molta forza però quando sono agitata nei pensieri no che oddio adesso cosa faremo cosa non faremo quando paradossalmente mi viene da sorridere e da dire ricordati che devi morire e così riprendo a vivere